benvenuti o bentornati su abbraccio con fulvio venanzini per una nuova puntata del podcast satirico estemporaneo autobiografico ma soprattutto polemico io sono fulvio venanzini e vi auguro buon ascolto eccoci qua cari amici e amiche come ogni settimana anche oggi abbiamo vari argomenti su cui polemizzare straparlare e vabbè iniziamo subito con una notizia importante per quanto riguarda il sociale voi sapete che questo governo non pensa alle quisquiglie alle stupidaggini alle cose di forma a diritti civili pensa al popolo capito alla gente vera che lavora che si spacca la schiena famiglie famiglie belle tradizionali che fanno figli che lavorano che vanno in chiesa e quindi c'è stato finalmente un bel aumento delle pensioni minime capito per premiare chi veramente si è spaccato la schiena per l'italia e quindi leggiamo 10 centesimi al giorno mi sembra buono 3 euro al mese questo è stato l'aumento delle pensioni minime attuato dal nostro fantastico governo meloni cioè non è io regà boh una volta ridivamo degli 80 euro di renzi no poi il bel reddito cittadinanza che schivo vergogna populismo andate a lavorare per androni adesso per i pensionati 3 euro in più leggiamo qui fatto quotidiano vabbè forza leggo il fatto quotidiano pure io è normale che loro ce l'hanno con la meloni 3 euro è questo l'aumento mensile per le pensioni minime apparecchiato dalla legge di bilancio presentato dal governo meloni l'assegno sale da 614,7 a 617,9 euro se si considera che l'inflazione per i beni a largo consumo è intorno all'1 per cento si capisce che in realtà al di là della irrisorietà della cifra l'assegno rimane identico addirittura scende in termini di potere d'acquisto fantastico meraviglioso un altro risultato eccellente di questo governo però come al solito senti parlare la meloni è tutto un successo risultati traguardi mai raggiunti l'italia sul podio stupendo tutto va meglio senti l'opposizione ti dice che fa tutto schifo a noi cosa ci rimane o informarci ma non ci abbiamo voglia no per in modo autonomo oppure ti fare e credere crede io credo la meloni se sono scemo oppure credo se c'ho un minimo di raziocinio a all'opposizione perché raramente il governo dice la verità no specialmente questi che mettono su qualsiasi cosa capito quindi è chiaro che quello che dicono loro è tutta propaganda cioè c'è salvini questo governo ragazzi cioè c'è salvini basta quello cioè vedi salvini e dici no 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 tutto da rifare tutto sbagliato io credo al contrario di quello che dicono ma a parte questo ci sono delle news per quanto riguarda il ministero della cultura non si placano le polemiche su sto cazzo ministero della cultura ma abolitelo ma che ce frega date un po' le sordi per uno ai film a sorteggio no ai musei un po' per uno e basta tanto che 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 è tutto magna magna per fare un po' di populismo ma così è imbarazzante cioè finito la tutto il circolo san giuliano che poi non è manco finito non è manco finito perché ieri c'è stato un report e hanno fatto nuovi scandali sul nuovo ministero ma si parlava pure di della famosa ferita sulla capoccia di san giuliano che prima se diceva fosse la moglie ha tirato una scarpa in testa perché lui la trattiva con la boccia no ma viene fuori che lui l'ha denunciata e c'è proprio uno squarcio sulla su sulla pelata che sarebbe un forse ve l'ho già detto un'unghiata della boccia quando lui poi non ha mantenuto le promesse lei l'ha credito chissà non se non si capisce io a sto punto ci credo pure no comunque sia ancora se ne parla questa boccia poi adesso c'è un altro processo non sa ve l'ho detto per per truffa non mi ricordo però è scappato fuori un altro scandalo ma appena messo sto ministro non riescono a trovarne uno che non faccia figure di merda non faccia cose non faccia e dica cose imbarazzanti e non dia lavoro a crozza ma una volta c'era gusto a imitare i politici no dovevi trovare un particolare e ingigantirlo un po' addirittura inventarlo no quando c'era guzzati questi qua adesso sono talmente grotteschi già in partenza i politici che non c'è più gusto cioè crozza non riesce quasi mai a superare l'originale c'è capito l'originale ormai salvini c'è una volta berlusconi era un fenomeno a baraccone era politico trash ridicolo folcloristico imbarazzante ma era una un'eccezione oggi la norma oggi sono tutti così capito quindi da una parte sì c'è tanto lavoro per crozza e per quelli che fanno sto lavoro di imitazione le parodia satira dall'altra non c'è più gusto troppo facile e non fa più manco capito non è più neanche pungente non dà fastidio anzi spesso gli fai in favore li fai diventare simpatici perché ripeto una volta dovevi caricare un particolare un difetto oggi è tutta una caricatura sono già caricature questi e mo c'è stato un nuovo scandalo appunto vabbè abbiamo detto giuli parla per supercazzo le barocchismi cose non si capisce che cazzo dice vabbè ma è il capo di gabinetto spano si è dimesso francesco spano capo di gabinetto del ministero del ministro della cultura alessandro giuli ha rassegnato le dimissioni 11 giorni dopo aver ricevuto l'incarico cioè ormai durano meno di papa luciani durano un cazzo il motivo è un'inchiesta di report che avrei vedrebbe coinvolto il compagno di spano perché è gay spano la vicenda sarebbe risalente al periodo in cui due lavoravano al maxi che poi il maxi secondo me 99 per cento italiani manco sanno che è museo d'arte contemporanea di Roma però vabbè girano soldi girano allora è stato definito il nuovo caso boccia e anche se con tutta robabilità non si arriverà alle dimissioni del ministro come è venuto con generale san giuliano invece mancherebbe perderebbero quel brici la credibilità che c'hanno a perdere l'incarico è stato il capo di gabinetto del ministero della cultura ma si comincia così prima fanno di mettere uno piccolo poi francesco spano che era stato nominato appena 11 giorni fa dal nuovo ministro alessandro giuli lo stesso giuli inizio ottobre aveva revocato l'incarico al predecessore di spano francesco giglioli perché era venuto meno il rapporto fiduciario tra i due forse proprio a seguito del caso boccia allora leggiamo insieme perché a me sta roba mi annoia pure quindi non è che mi preparo l'imparo a memoria parte mi preparo niente allora del caso non sono ancora chiari tutti i dettagli ma sono arrivate diverse anticipazioni la questione sarebbe iniziata quando spano guidava lunar durante il governo renzi all'epoca le iene avevano svolto un'inchiesta su di lui mi ricordo perché l'ufficio aveva finanziato un'associazione per i diritti lgbtq nelle cui sedi si sarebbero svolti anche dei rapporti sessuali a pagamento e questo ci interessa questo diventa pruriginoso diventa morboso e ci interessa la corte dei conti aveva poi escluso le responsabilità di spano questi non riescono a non fare orge in luoghi istituzionali e qui stando a quanto affermato la report era partita l'iniziativa legale di quest'ultimo nei confronti di varie testate e programmi il suo avvocato sarebbe stato marco cornabucci che nel che nel tempo sarebbe diventato anche il suo compagno il suo avvocato sarebbe stato ok che nel tempo sarebbe diventato anche il suo compagno i due sono uniti civilmente e su questo legame si fonderebbe il potenziale conflitto interessi o abbiamo capito il bello viene qui perché molti in fratelli d'italia ce l'avevano con spano ci ha capito sempre lotte interne la nomina di spano aveva subito sollevato polemiche soprattutto a destra come ha confermato anche la presidente del consiglio giorgia meloni ieri sera meloni ha una domanda sul caso ha detto di non aver seguito la vicenda e di non aver parlato con giuli né all'atto della nomina né a seguito delle dimissioni del suo capo di gabinetto ma ha ricordato che in fratelli d'italia c'era stato nervosismo quando era emerso il nome di spano chissà perché chissà perché il motivo è che l'inchiesta di chi ne aveva sollevato bla 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 assorzionismo lgbtq a cui la destra conservatrice è particolarmente ostile questo lo sappiamo già e secondo quanto riportato in una chat locale sempre ste chat vengono fuori del partito di meloni l'uomo sarebbe stato definito pederasta termine casualmente rievocante il fascismo perché pederasta veramente pederasta proprio è da 20 anni o fascista l'uomo sarebbe stato definito pederasta da fabrizio busnego coordinatore del municipio nono di roma che ha poi lasciato l'incarico dichiarando lungi da me attaccare spano da un punto di vista mofobo ho semplicemente riportato il sentimento della base elettorale rispetto alla sua nomina questi sono fantastici senti che super cazzo le fanno cioè dicono cose omofobe e poi riescono a rigirartela in modo che no no ma non volevo di una cosa omofoba si sbarcano e poi si dimettono perché no no ma non volevo c'è io detto pederasta ma sapete è l'intenzione no come diciamo l'altra volta ma no ma il pederasta è termine tecnico sì forse era termine tecnico nel 1897 nel 1925 oggi è un insulto e anche desueto no ma come sappiamo se può di tutto che ci frega poi però se dimettono ti dicono no ma non so io ma è il nostro elettorato che potrebbe no no sei tu sei tu che proponi queste idee sei tu che ne fai parte sei tu che dici ste parole e ti dovresti assumere le responsabilità poi tant'è che poi si sono costretti a assumersele perché poi vengono fuori ste cose e sono indifendibili però comunque no no ma io non volevo eh non ma io non volevo guarda lungi da me figurate se io faccio sono omofobo quando mai faccio stati omofobi sono stati sempre aperti a inclusivi verso il movimento lgbtq plus e a proposito ieri sempre sul report facciano vedere che dovevano fa o hanno fatto una una mostra su cosa sul futurismo cioè o tra tutte le correnti artistiche italiane mondiali su quale casualmente loro si si focalizzano sul futurismo e vabbè invece il futurismo non si può fare la mostra sul futurismo è stupendo è stupendo non riescono manco a a dissimulare no famo famo una cosa un po diversa se no a pezzo non siamo fasci no no futurismo perché il futurismo ha influenzato anche la le correnti artistiche sovietiche quindi quindi va bene futurismo e proprio a proposito di di opere d'arte a notizia che mi ha veramente scaldato il cuore finalmente una bella notizia sgarbi chiusa l'indagine sul dimitto di manetti il pm dice fu rubato e taroccato quello che sapevamo già era talmente palese no ne parlò il report l'anno scorso mi sembra no il critico d'arte sarebbe imputato per riciclaggio autoriciclaggio e contraffazione di opere d'arte e rischierebbe una condanna da 4 a 12 anni di carcere ragazzi io se sgarbi va in carcere è impossibile figuriamoci ma io veramente offro lo spumante ai miei amici più stretti certamente non a tutto però cazzo va festeggiato cioè un tizio che fa i peggio impicci sfacciatamente viene sgamato in mondo visione palesemente il quadro è lo stesso il restauratore ti dice sì me l'ha portato sì ho messo è il più grande falsario del mondo io ho messo la candela finta la signora dice sì me l'hanno rubato dopo che sgarbi è venuto a vederlo cioè tutto era tutto chiaro era tutto chiaro no e sgarbi continuava a negare e a insultare il povero giornalista del report perché giustamente lui deve sempre negare ha ragione lui voi non capite in caso siete ignoranti no come morgan infatti ieri sera alla luce di di questa sentenza c'era di questa indagine mo c'è sarà il processo certo report ne ha parlato e vedi c'è stato proprio il pittore falsario pasquale frongia che con l'inquirante avrebbe ammesso la torcia nell'originale non c'era fu lui a chiedermi di aggiungerla cioè pure lì no chi è minimamente smaliziato sveglio no vede sgarbi un altro personaggio che mente sapendo rimentire de continuo cioè lo vedi ogni volta e parla proprio onestà intellettuale zero arroganza quindi da che te stupisci che possa fare una roba del genere cioè sgarbi mi ricordo video di lui che si rotolava per terra dentro un autogrill trasportato via dal parlamento in barela personaggi imbarazzanti che infatti poi il governo meroni si è sciacquato dai coglioni però le magagne rimangono e quindi mo c'è sarà il processo secondo il quotidiano quotidiano che sarebbe vabbè qual è il quotidiano vabbè insomma l'importante è nelle conclusioni del pm sarebbe stata decisiva la perizia sul quadro fatta a seguire della procura sulla tela di sgarbi sostiene aver trovato così com'è nella soffitta della sua villa in provincia di terbo perché lui ormai sta qua a scassare la minchia perizia che avrebbe concluso che il dipinto in possesso del critico del gennaio sotto il sequestro sia lo stesso provento di furto e oggetto di non c'è il 14 febbraio 2013 questo ha fatto una mostra con un fazzo praticamente perché come dimostrato da un fotografo cioè lui quella quella quell'opera l'ha spacciata per uno per un inedito facendo questa mostra a lucca i pittori della luce capito mentre mentre ormai è chiaro è dimostrato che era lo stesso quadro rubato che lui ha modificato tramite questo restauratore pittore vazzario insomma e quindi cioè se sarebbe la truffa il reato di truffa perché tu fai pagare a gente un biglietto per vedere un quadro che non esiste è incredibile che questo stava al governo rendiamoci conto sgarbi piena fiducia nei giudici dimostrerò la mia correttezza e te pare o ci fosse uno che quando è sotto indagini quando è sotto processo dice no 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 fiducia nei giudici i giudici mi inculano no no non mi fido non mi fido tutti no no piena fiducia finché gli fa comodo quando hanno un po' di strizza no no piena fiducia nei giudici no mi fido della giustizia italiana è un po' come quando no come quando i politici devono farse votare che dicono no gli italiani sono capisco sono persone intelligenti no no veramente io ho fiducia a loro io leccano il culo probabilmente no sperando che quelli poi gli danno un tornaconto poi rimanendo in tema governo il consiglio d'europa ha dichiarato che l'italia ha una polizia e dei politici razzisti il consiglio d'europa vedi l'organismo nato nel 1949 dopo la seconda guerra mondiale per promuovere la democrazia e diritti del continente oh che brutta che stronzata spiazza l'italia con la pubblicazione di un duro rapporto stilato dalla commissione contro il razzismo e l'intolleranza l'ECRI composta da 46 esperti indipendenti uno per paese membro secondo il documento la polizia italiana compie profilazione razziale no non ci posso dire la polizia razzista no ragazzi questo è troppo e nel corso delle sue attività soprattutto nei confronti dei rome e delle persone di origine africana no mentre la politica negli ultimi anni è diventata sempre più xenofoba ma pure questo da dove lo hanno scoperto e vinto con un dibattito pubblico dai toni divisivi su stranieri e lgbt che cazzo hanno scritto? lgbti vabbè diciamo lanza ogni tanto affermazioni che hanno suscitato l'indignazione della premier Giorgia Meloni e lo stupore del presidente Mattarella ma Mattarella ma io capisco che devi difendere l'onorabilità del paese dell'Italia ma è chiaro cioè sei il primo a criticare no? l'odio, la propaganda vabbè questa è la loro campagna elettorale da sempre cioè che mo' in Italia la polizia non è razzista raga cioè basterebbe la storia di Bonsu quello là di cosa di 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 Alavungi eh la polizia municipale che pestano un ragazzo solo perché è nero secondo loro è uno spacciatore e ci fanno le foto tipo trofeo insulti razzisti oppure che ne so ricordiamoci le canzoncine simpatiche che cantavano al G8 no? 1, 2, 3 viva Pinochet il resto non lo dico se no può essere che mi cancellano pure da Spotify è una cosa ovvia però vabbè quando te lo dicono dall'Europa dicono come vi permettete noi noi razzisti noi al massimo li facciamo annegare i neri ma mica gli diciamo le participo gli diamo pure lavoro gli diamo pure lavoro a 3 euro all'ora nei campi ma che stanno scherzando noi siamo inclusivi Salvini Salvini all'uscita di questo insomma documento che ha detto per dimostrare che non è vero che ha detto se all'Europa gli piacciono tanti Rom si riportino a Bruxelles fantastico cioè per dimostrare che non è razzista ha detto una cosa più razzista che poteva dire e quindi lì dice vabbè ma do cazzo mando cazzo a Namo mando cazzo a Namo cioè non è che ha detto se vi piacciono i delinquenti no di origine Rom oppure i delinquenti di origine africana portateli a casa ma ha detto proprio i Rom capito se vi piacciono i Rom a noi non ci piacciono se voi vi piacciono portateli in a Bruxelles le solite cazzate che dicono no portatele a casa tua l'Italia è troppo piccola per raccogliere tutti le solite stronzate slogan che questi dicono e più più un po' dei voti poi a proposito di polizia violenta intolleranza e cose varie si è tornato a parlare in questi giorni di bullismo no un tema un tema sempre attuale perché c'è stato un quindicenne che si è suicidato a Senigallia dove ha subito appunto atti di bullismo e vabbè si è riaperto il suo dibattito perché la famiglia ha proposto una legge contro il bullismo ma sicuramente il governo si si opporrà come per il DDL Zan come tutto ciò che può aiutare i deboli no no loro sono contrari che hanno questo culto della forza che deriva dal fascio da quello che ho letto poi la madre di questo povero ragazzo si lamentava che i professori i docenti non avevano fatto nulla per aiutarlo e per cercare di di fermare questo comportamento da parte dei bulli dei compagni bulli lei dice che questo ragazzo si era confidato con il professore ma questo gli ha detto no no la scuola io voglio cambiare scuola non ce la faccio più no no fino a 16 anni la scuola le ha proprio rubricato le ha detto no no della serie fa la finita non è importante e non aveva avvisato la famiglia ma anche lì come dico sempre ma la scuola è la principale fonte del bullismo cioè i professori sono i primi bulli storicamente sono i primi bulli oggi forse un po' meno perché sono un po' frenati da questa paura che poi li denunciano i genitori oggi si incazzano di più forse troppo oggi basta un po' di ironia e può essere che ti denunciano qualcuno per maltrattamenti no ma c'è una via di mezzo all'epoca nostra che io non so del 40 so dell'81 ci menavano ci umiliavano e tuttora tutti raccontano bullismo comunque indifferenza da parte dei docenti in più se ci metti che in famiglia si promuove il bullismo la famiglia tradizionale è proprio promuove da sempre il bullismo è intrisa di cultura patriarcale che è intrisecamente bullista bullista non si dice però avete capito il concetto quindi quando si dice ma sono i genitori che dovrebbero educare i bulli ma i genitori sono più bulli dei bulli è lì che prendono l'esempio i professori non argilano questo fenomeno se ne sono sempre sbattuti i coglioni la scuola riproduce praticamente le stesse dinamiche del carcere ci sono questi ragazzi costretti a stare con gente ore e ore gente che non vogliono vedere gente che non hanno scelto costretti in queste classi ognuno il gruppo suo come in carcere si riproducono quelle stesse quelle stesse dinamiche ecco perché lì c'è il bullismo ma forse il problema è proprio la scuola poi fanno i film per sensibilizzare adesso hanno fatto quel film sul ragazzo dai pantaloni rosa com'è vabbè quell'altro ragazzo che si era suicidato perché lo prendevano per il culo perché aveva questi pantaloni chiari scoloriti da lì è partita tutta un continuo di prese in giro chiaramente omofobiche bla 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 ma hanno fatto questo documentario lo vogliono proiettare nelle scuole i genitori si oppungono capito i genitori si oppongono a un progetto che è mirato a contrastare il bullismo e l'omofobia perché se tu contrasti l'omofobia è un problema è come se volessi portare il figlio sulla cattiva strada lo fa di mentafrocio per citare l'intellettuale dell'altra volta loro hanno paura di questo fondamentalmente cioè se i genitori sono i primi a opporsi a queste cose no no che sei matto no no l'omofobia la vogliamo che voglio me voglio indottrinar il figlio alla tolleranza ma che sta scemo poi esce e diventa pure lui oggetto di bullismo ma sei tu il primo bullo l'altro giorno ho condiviso su threads un articolo cioè uno screenshot di un articolo di un tizio che diceva che oggi era obeso lo prendeva per il culo i compagni oggi è dimagrito per fare maratone e lui si lamentava di questo trama che c'è avuto nella scuola dove mi ha bullizzato e il professore lo chiamava polpetta cioè il professore lo bullizzava lo ha detto lui e non è che l'ho detto io il primo bullo era il professore capito e i deficienti cioè chiaramente vabbè l'80% del mio pubblico era d'accordo con me ma c'erano pure un 20-30% solo uomini tutti uomini io ci tengo a specificare che i commenti più imbecilli più reazionari più ignoranti sono 99,9% scritti da uomini dicevano eh vedi il bullismo gli ho fatto bene ma tu sei proprio cretino tu sei proprio imbecille cioè quello ti sta a dire che il bullismo gli ha rovinato la vita e siccome ce l'ha fatta che la sia le sue forze nonostante il bullismo tu mi vieni a dire che il bullismo è una soluzione che il bullismo fa bene tu sei un mente catto e questi qui sono quelli che poi fanno i figli e che si oppongono ai documentari contro il bullismo capito? sono gli stessi che dicevano che era giusto menare i tossici a San Padrignano perché poi qualcuno è uscito dalla droga capito? cioè ma la gente è bullizzata invece mandarla dallo psicologo mandamola dal bullo il bullo ti aiuta o ti ammazzi o ne esci grazie al cazzo ti sembra un rischio che vale la pena correre? io regà qui la gente non capisce proprio è inutile cercare di sensibilizzare se manca proprio l'empatia l'intelligenza la base quindi su real time gli obesi invece i manali dal dottor Donno Saradan e poi dallo psicologo perché non rimandano direttamente da un bullo? il bullo è un team di bulli che li bullizza l'insulta a Yemena e vedrà che loro sono stimolati a perdere peso e dimarire e guarire cioè questi arrivano a dire che il bullo ti ha salvato la vita il bullo ti fa uccidere e questi è un continuo di storie di bullismo ma in quel caso è terapeutico ma che cazzo dici? ma non capisci una sega c'hai la capoccia per spartire le orecchie c'hai un pisello gigante dal posto del cervello questa società purtroppo è tutta fondata sul bullismo sul potere purtroppo sul potere il potere che è? è bullismo da quello più sopra verso quello sotto in tutti gli ambiti è così e in famiglia è così nella famiglia patriarcale è così poi c'è la scuola in tutti gli ambiti sul lavoro è tutto così e chiaramente i ragazzini sono l'ultimo stadio sotto l'anello l'ultimo anello della catena e loro fanno lo bullismo sui ragazzini più deboli poi vanno a casa e il padre li bullizza loro gli emena oppure gli dice bravo oppure gli aiuta a bullizzare il prossimo io tutti i bulli che ho conosciuto in vita mia avevano tutti padri peggio di loro è ovvio no? quindi cercare la soluzione in famiglia è un po' ingenuo perché la famiglia è la prima che va educata la scuola sì la scuola certo purtroppo i professori sono gli stessi che promuovano il bullismo o se ne fregano poi certamente non si può generalizzare grazie a cazzo lo sappiamo ma non dovrebbe essere un'eccezione il professore empatico il professore intelligente che 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 condanna il bullismo come il carabinare il poliziotto buono non dovrebbe essere un'eccezione il papa buono il prete buono no dovrebbe essere la norma è questo che la gente fa finta di non capire eh ma ci sono non si può generalizzare ci sono anche buoni ma la mila marcia dovrebbe essere l'eccezione no la mila sana io mi ricordo chiaramente a scuola il bullismo che ho subito dai professori le umiliazioni le interrogazioni volte proprio a umiliarti davanti a tutti gli insulti su qualsiasi aspetto fisico mentale ma anche proprio sui risultati scolastici quello non è bullismo quando io ti umilio davanti a tutti ti faccio vendi complessi e quello è bullismo perché tu non è che vuoi farmi migliorare aiutarmi tu mi vuoi mettere sotto esame quasi in modo sadico per divertirti a umiliarmi e la gente poi ah sei una pippa sei in senso mare va a lavorare così no questo è già una forma di bullismo poi c'è quello proprio diciamo più di strada dei ragazzini che semenano si insultano si umiliano si derubbano per arrivare a istigazione del suicidio belle e buone però la scuola come è concepita adesso non è per fare discorsi scuola montessoriana e cose varie però la scuola come è concepita aiuta il bullismo si c'è pure in giro il bullismo certo nel tempo libero al campetto ovunque però uno lì lo può pure evitare io sto a peccarsi miei ma scelgo due amici a scuola non lo puoi evitare perché se è costretta sta con quella gente con i professori con tutta la gente che ti è ostile quindi la scuola come è concepita è costrittiva è opprimente è frustrante per il ragazzino debole sensibile per il diverso è lì che proprio il bullismo fiorisce meglio capito quindi interroghiamoci su questo sul perché il bullismo è sinonimo di scuola quasi a scuola c'è il bullismo e allora c'è forse un problema proprio strutturale nella scuola parlando proprio di giorni violenti c'è stato un momento storico Filippo Turetta finalmente a processo immagini quasi scioccanti perché vederlo proprio a processo è stato comunque no? se ne è parlato tanto finalmente Turetta che racconta l'omicidio di Giulia Cecchettin che che piange che spiega i motivi raccapricciante raccapricciante però quantomeno adesso è lui là nessuno potrà più negare che esiste invece no perché pure lì gli imbecilli di Twitter di X continuano a a insinuare che sia un attore perché questi hanno dovuto prendere un attore quando c'è cioè perché non capisco cioè perché con tutti i femminici che ci stanno devi far finta che uno esista per poi prendere un attore crearlo uno finto per poi trovare il sosia una cosa veramente demenziale intricata che denota una turba psichica in questa gente molti stanno parlando pure i giornali dico molti trollano chiaramente molti trollano cioè giocano però sono dove molti ci credono perché oh se non credono al cambiamento climatico non credono al covid non credono alla terra piatta eccetera eccetera perché non dovrebbero credere che Turetta non esiste cioè secondo me molti sono fermamente convinti che sia che sia una psyop che cazzo ne so per distruggere il maschio cazzate vari no tutto è nato da un equivoco da per caso poi c'è arrivata la sorella troppo politicizzata quindi c'era vedi c'è c'è dietro la politica c'è il PD quindi noi dobbiamo dimostrare che è tutto 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 terrorismo come il covid che è tutto terrorismo mediatico Turetta è identico non è che ti ha cambiato capelli è uguale è proprio lui mettono quattro foto che veramente dici ma che sei ritardato cioè è chiaro cambia inquadratura una persona sembra diversa ma se tu non sei un idiota lo sai no? come funziona no e loro usano vedi che è diverso qui ma c'è lui che è diverso uno è ripreso da sotto uno è ripreso da sopra c'è la luce diversa ah ma qui non c'hai neve si inventano le cose inesistenti è palesemente lui cioè è la persona Turetta è la persona più uguale a se stessa nel mondo cioè non ti puoi sbagliare e no continua a dire che non è vero ma a me la cosa che mi ha inquietato di queste di questo processo soffrono fuori altre cose a parte che dice esso ultimamente che lui c'ha ventimila foto di giù e le cecchettine sul teleo ventimila ragazzi un'ossessione bella e buona questo è proprio uno psicopatico ossessivo compulsivo addirittura poi faceva delle liste tutte scritte col computer con le spunte sulle cose da fare vabbè no sulle cose da procurarsi per questo omicidio straccio da mettere in bocca coltello con cui intimorire delle cose mamma mia altro che psycho tutta una lista di roba che palesemente testimonia la sua la sua premeditazione ma forse ancora c'è ancora c'è ancora di peggio delle degli elenchi che lui faceva su giulia cecchettine che ne so primo ottobre seduta vicino a me secondo due ottobre dietro uno con la vaccina triste uno con la vaccina allegra cioè uno con la vaccina tutto schedato cioè questo monitorava giorno per giorno i comportamenti di questa questa forella non sapeva chi cazzo si era messa a capito a intrattenere le relazioni cioè proprio ossessionato i motivi per cui andava uccisa c'erano pure non si chiamava così l'elenco ma non mi ha invitato a compleanno di tizio non mi ha mandato la buonanotte perché lui pretendeva la buonanotte cioè porco io quella cosa là mi fa girare il sangue quella è la prova che a questi sfigati insicuri perché lui lo ha detto più volte nell'interrogatorio no l'ha detto mi sa proprio a processo che lui si sentiva si era sempre sentito uno sfigato non riusciva a avere le fidanzate invidiava alle altri è un incel questa è la prova che a questi qua sfigati non bisogna dargli una chance bisogna evitare meglio andare col come lo chiamano loro col chad quello figo è meglio è meglio che 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 farsi impiedosire da questi che so i peggio poi so i peggio perché questo qui che per anni magari ha sofferto questo suo questa sua timidezza questa sua incapacità di relazionarsi con le donne quando ha trovato questa se ne è completamente ossessionato e non poteva tollerare di perdere questo l'ha pure detto dice che se perdo questo addio nella sua mente no come ragionano l'incel cioè loro si auto condannano proiettano su di sé la sfiga e poi la fanno pagare gli altri perché dicono che gli altri non li hanno considerati abbastanza si sentono perseguitati questo alla base c'era sicuramente narcisismo patologico narcisista covert non lo so però il discorso è questo parlando dell'incel in generale questo secondo me è un incel che ha trovato la fidanzata e non ha saputo gestire la 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 sconfitta diciamo tra virgolette di di farsi lasciare e non poteva tollerare poi che lei lo superasse nel percorso di studi eccetera eccetera che lei si emancipasse da lui vabbè femminicidio in piena regola però dicevo l'incel se ci pensate è un assurdo è una definizione che non ha senso perché se tu non trovi la fidanzata e la vorresti ti puoi definire single no? perché nessuno nel mondo può dimostrare che no nessuna donna mi vuole no sei tu che l'ha detto che nessuna donna ti vuole nessuna donna evidentemente soddisfa i tuoi canoni sei tu sei timido ma non è che c'è un complotto contro di te loro invece con questa definizione trovano un alibi dicono no non è colpa mia io lo vorrei ma non esiste una donna per me quindi io sono un incel no tu sei single come tutti come single sei involontariamente celib ok ma non c'è un complotto delle donne contro di te sei tu che non ti accontenti sei tu che non trovi la donna giusta ci sono miliardi di donne sei tu che non l'hai ancora incontrata non sei capace a relazionarti ma che tu dici no basta io qui mi arrendo non è colpa mia è colpa della società lì subentra la misoginia e subentra il narcisismo di dire no no ma nessuno mi vuole nessuno è degno di me e quindi loro pretendono che intervenga lo Stato eccetera eccetera dai la figa eh di come la pensione la figa di cittadinanza non so come definirlo però è questo il discorso capito cioè è una definizione già sbagliata alla base che in quel modo uno si radicalizza si unisce a un gruppo di gente che dice no no a noi le donne non ci vogliono come se le donne fossero un'entità unica compatta che dice tutte uguali tutte stupende bellissime sicure di sé le famose estesi e dicessero no quelli noi non li vogliamo non è così non è così ognuna ogni persona è a sé non è uomini contro donne loro invece la vedono così è una forma di complottismo l'incellismo l'incellismo che poi sfocia nel red pillismo e poi sfocia anche in atti di terrorismo purtroppo in atti violenti ma a proposito di cronaca nera italiana tutti aspettavano che uscisse questa serie che sembrava abbastanza trash dal trailer e dalla locandina a vetrana che sembrava l'omicidio com'era il film dei maccio capatonda delitto non mi ricordo vabbè a vetrana qui non è hollywood ma il sindaco il comune di a vetrana ha fatto causa e è riuscito a bloccare la serie ebbene sì l'accusa era appunto che questa serie danneggerebbe l'immagine del paese a vetrana facendogli sembrare dei bifolchi omertosi eccetera eccetera è incredibile che siano riusciti a a bloccarla perché deve uscire non so il 25 comunque il 23 è stata bloccata e per ora non uscirà il tribunale di Taranto ha infatti accolto la richiesta di sospensione inoltre dal sindaco della cittadinanza Antonio Giazzi cioè ora uno può pure non essere d'accordo sulla spettacolarizzazione sulla drammatizzazione la come dire la la si su queste operazioni no basali su fatti di cronaca anche recenti abbastanza recenti e poi dire vabbè ma però bisognerebbe vederle le serie prima di giudicarle no però quello è di essere un circo mediatico già di base uno potrebbe criticare questo ok ma che tu mi viene a criticare il titolo quando il titolo non c'entra un cazzo perché allora il mostro di Firenze allora ha mili luoghi che devono dire che sono più famosi che il mostro che il peatro dappertutto no mostro di Firenze mostro di Voligno cioè è così che funziona no loro no a vetrana no perché a vetrana è famosa nel mondo è famosa solo per quello ma al di là di questo se è successo lì se c'è avuto questa risonanza il titolo è il titolo sì potevano chiamarlo Sara Scazzi il delitto ecco ma a vetrana qui in Hollywood c'è un altro taglio no quanto pare chi l'ha vista mi ha detto che questa serie non è trash come vorrebbe sembrare ma è una serie che proprio è una critica al circo mediatico che hanno costruito intorno a questa tragedia alla morbosità dei media della gente e ogni puntata era il punto di vista di un personaggio poi si può criticare dal punto di vista estetico morale cose varie ma veramente attaccarsi al titolo perché danneggia la città è veramente ridicolo perché dovremmo cancellare il 30% delle opere d'arte allora perché tu ti senti se c'è una famiglia no dove viene ucciso da una ragazza una famiglia mafiosa quello che ti pare tu che abiti a un chilometro o anche a 10 metri che colpa c'hai? niente è successo lì fine ne prendi atto non è che devi dire ah mi sento o io mi devo scusare o io mi sento colpevolizzato se qualcuno ti insulta perché sei da Petrana perché c'è stato l'omicidio di Sarascazzi è un povero demente no perché tu che cazzo c'entri così tu in questo modo legittimi proprio sì il razzismo tu lo legittimi perché purtroppo la Petrana ormai sarà sempre famosa per quello non sarà la serie a cambiare questa cosa è famosa per quello perché è un piccolo paese non c'è altro è successa questa questa tragedia se era Firenze certo Firenze c'è il mostro ma c'è anche altro c'è anche il rinascimento è inutile incazzarsi tanto ma questa serie uscirà uguale spero che cambino titolo ma la voglio proprio vedere guarda spero che cambino titolo e la facciano uscire così lo fanno contento il sindaco la gente sti cazzoni moralisti i bacchettoni di merda allora potete cacciare col forcone quelli che venivano giù a fare turismo macabro quelli veramente erano veramente degli esseri abbietti che andavano giù a spia la casa a farsi i selfie come quelli che andavano a farsi i selfie davanti alla costa Concordia quella gente che è pericolosa questi capito questi che fanno turismo macabro che vanno a raccogliere il cemento vicino alla casa dei Sarascazzi per portare a casa un cimelio quella gente quelli però mi sa che va fatto pure comodo a sto punto un po' di turismo no? se no lì non ho visto grosse proteste ma il film addio la serie tv distruggerà l'immagine della vetrana è proprio un atteggiamento miope stupido puerile no no la vetrana il nome della città non ce lo voglio così ci danneggiate qui non è Hollywood beh che pensavi che era meglio di Hollywood non so forse l'accostamento eppure Hollywood c'è stata bella roba pure lì mi sembra che pure lì ci ha smenzono qualche casino l'ha fatto allora Hollywood disastro Hollywood c'era una volta Hollywood oh cazzo qui dimmo Hollywood è famoso solo per quello per la strage di Cielo Drive e compagnia cioè quello è un film tarantino che parla fondamentalmente della strage di Charles Manson eh però a Hollywood c'è pure altro la vetrana purtroppo l'industria cinematografica non c'è mi dispiace a proposito di serie tv poi ero curioso mi sono iniziato a vedere hanno ucciso Lavoragno la serie sui 883 ah quella moda neggiava via no battute stupide da parte devo dire che è simpatica Sidney Sibiglia lo conoscevo già ho visto al senso dei lavori devo dire che questa serie ha un taglio molto ironico che è divertente c'è un incrocio tra che te posso dire vabbè un po' zero calcare un po' ehm ovo sodo no personaggio max pezzali lo sfigato però sensibile embranato poi conosce Marore Petto un po' più sveglio un po' più scafato fanno delle cose il loro percorso verso il successo devo dire che gli attori recitano bene sono bravi io pensavo quando mi dico che usciva questa serie pensavo che era una cosa cringe invece non è cringe è simpatico è leggero poi vabbè comunque gli attori sono stati un fenomeno pop indiscusso che cazzo io vorrei la loro storia di questi Lennon McCartney sfigati le provincia analfabeti musicali come dire che dal nulla con i sintetizzatori hanno cominciato a sapere su una niente hanno costruito queste hit che dal garage hanno fatto è interessante a livello sociologico musicale musicologico comunque è storia del pop italiano e devo dire che è divertente quel prodotto poi l'Hotteret risentito oggi a parte risentivo con un Dega è una canzone di Liga Bue che cazzo io ho detto cambia l'arrangiamento non c'è stanno le chitarre però come come tematica come come mood anche come come voce Max Pezzali cantava un po' più all'inizio un po' più sporco no prima di diventare proprio cringe bam bam boccione cioè questa voce un po' rasposa un po' più roca e ricordava Liga Bue cioè quello è un pezzo della Liga Bue la strada le tematiche no l'autogrill la libertà la sfiga però eh dicevo riascoltati oggi l'Hotteret che io sarò il mio primo imprinting musicale oggi non me li ascolto però c'è tanta roba che peggio cioè l'indie italiano l'it pop italiano la trap italiana è peggio degli 883 c'avevano un senso io mi ricordo ancora quando ci hanno ciso Lavoragno fu veramente una rivelazione era tutto diverso dal pop nostrano come tematica come argomenti come tutto e e poi giustamente chi cresce come me in famiglia non troppo acculturato non è che c'è gli schi Beatles Rolling Stones Sting and Child c'è un cazzo ho cominciato con la radio sedendo la radio no videoclip ogni tanto in tv un po' dei neuromantic così un po' dei dance di merda DJ Pared che mi passava una scuola e poi il mio primo gruppo di cui sono stato a fare il proprio 883 di cui compravo le cassette contraffatte dagli ambulanti in spiaggia hanno ucciso Lavoragno hanno riuscito dove state le donne ha sognato il grande incubo cazzo quello sono stati nostri cioè io purtroppo non conoscevo il grande non conoscevo un cazzo gli 883 comunque mi hanno dato un po' qualche stimolo un po' di gioia poi sono stati rinnegati e poi sono stati riabilitati sdoganati dall'hit pop dall'indie italiano che però li ha coverizzati ma non è riuscito a arrivare a quel livello cioè hanno fatto roba peggio dell'883 hanno preso il peggio dell'883 capito? Risentendo l'883 sembrano a confronto di tanto indie pop hit pop italiano sembravano veramente i dors in più mettici che c'avevo e c'ho tuttora quella fascinazione per dargli dei sono che c'è proprio una cosa estetica e l'883 mi piaceva un sacco quindi univo queste cose poi i fumetti io ho passione dei fumetti musica fumetti moto e l'883 erano la svolta cioè erano i numeri uno poi sta particolarità di Mauro Repetto che ballava e basta non si sa che cazzo faceva simpatici e poi Mauro Repetto vabbè la famosa storia di Mauro Repetto che poi nella serie non so se si vedrà che lui poi va in America cerca di diventare attore in seguenza di una modella poi fa quel disco che è veramente quello è il primo disco è unico solista di Mauro Repetto Zucchero Filato Nero uno dei peggiori album della storia musicale un album veramente trash involontariamente proto-indie nel senso dell'indie italiano nel senso peggiore del termine cioè musica brutta suonata male suonata male cantata peggio testi di merda mamma mia quando uscì pure quel singolo come si chiamava baciami qui mamma che tresciata baciami qui trescissimo trescissimo Zucchero Filato Nero che poi è un'ardita metafora per indicare il pelo vaginale ricordiamoci guardate quella locandina cioè quella copertina riscoprite Zucchero Filato Nero di Mauro Repetto che ragazzi sentirete poi l'ottotore e direte mamma mia questi erano capolavori a confronto capolavori rimanendo sulla musica è appena uscito invece un album remixato di un gruppo che io invece ho scoperto in adolescenza e ci sono andato in fissa i Queen pure quello gruppo divisivo gruppo che si ama o si odia io li amo e è riuscito è uscita la molto attesa versione remixata del primo album dei Queen che è appunto Queen sarebbe Queen 1 però diciamo l'album omonimo che è un disco che io ho sempre amato che sono i primi Queen proprio quelli più strani quelli più fantasy quelli più prog hard rock mezzo heavy metal con Freddie Mercury che suonava il pianoforte e faceva delle canzoni assurde tipo My Fairy King Great King Rat Keep Yourself Live con suono pazzesco unico della chitarra di Brian May costruita da solo col padre cioè una cosa unica è cazzo il primo album dei Queen e il secondo sono delle chicche il primo beh perché io mi sono innamorato con quello dei Queen già conoscevo delle cose però quelle cose più commerciali ma i primi due sono due chicche forse il secondo è più maduro è più bello ma il primo comunque è una chicca riscopritelo se questa nuova versione che è uscita ha dei suoni pazzeschi perché il problema del primo album dei Queen e forse anche del secondo e del terzo era proprio il suono il mix adesso hanno rimixato tutto suona molto meglio le batterie si suonano meglio è fighissimo per chi ama i Queen è una riscoperta per chi non li conosce questo è un invito a riscoprire Queen 1 dei Queen chiaramente erano ancora immaturi c'erano un po' acerbi Freddie Mercury scrive 5 delle 10 canzoni la maggior parte delle canzoni scrive lui poi 4 Brian May e una Roger Taylor che è quella più rockettara modern times rock and roll più hard rock classico comunque un album derivativo ancora delle Zeppelin e cose varie però lì già c'è il germe di quello che sarà poi Annette di Opera la parte quella dei Queen più interessante più più geniale sovraincisioni cambi di tempo cose melodie complesse cori armonie vocali a soli belli lunghi pezzi belli lunghi cioè è ancora un album diciamo derivativamente hard rock nel complesso però ci sono delle chicche mezze folk folcheggianti c'è già una varietà di stili in questo album anche perché non erano giovanissime Freddie Mercury c'era già 27 anni quando lo debuttarono nel 1973 e ci sono alcuni dei pezzi più belli di Queen tipo My Fairy King che io ho sempre amato è stato sempre il mio preferito quando lo sentii andai in estasi sentii questo pezzo di pianoforte con questo testo fiabbesco con questo mondo di fantasia inventato Freddie Mercury Rai tristi personaggi sempre molto fantasy io personalmente tra i dischi più belli dei Queen ci metto Queen 1 Queen 2 Annetta di Opera e Innuendo se siete d'accordo mi fa piacere se no sti cazzi ma abbiamo parlato di cinema di tv vabbè di musica un po' rimane la comicità eppure qui c'è una una chicca perché in vista delle elezioni americane Joe Rogan quel fenomeno di Joe Rogan ha avuto la brillante idea di invitare e mancava su lui Donald Trump ha invitato Trump nel suo podcast The Joe Rogan Experience che è il podcast più famoso del mondo no? e io dico cazzo ma io capisco che Joe Rogan è stato sempre un po' non si sa è un po' progressista è un po' reazionario un po' cioè un po' democratico un po' repubblicano non si sa però diciamo come ospiti lui è abbastanza democratico cioè invita tutti però cazzo inviti Trump gli dai risonanza a Trump un pazzo del genere ma a quanto pare gli ha fatto un danno perché Trump è andato là adesso è proprio fuori di capoccia non si sa che dice è andato quando va in tv sai i giornalisti sono un po' più accondiscendenti no? cioè se lui dice una cazzata fanno finta che ha detto una cosa sensata giuro che no lui ti parla faccia a faccia da comico a ospite e quando ti fa una domanda e tu gli rispondi a cazzo le cane io non ho visto tutta la puntata ho visto degli highlights delle clip perché tre ore di Trump che sragiona e quello che gli dite in faccia me lo risparmio però ecco quando gli diceva come faresti a risolvere questa cosa lui diceva e lui rispondeva sì che ci vuole e se c'ero io non c'era nessuna guerra perché io lo dico io non fate le guerre ecco e lui gli dite in faccia quindi alla fine probabilmente io spero che questa esposizione da Joe Rogan lo abbia danneggiato poi certamente il suo elettorato è fatto da fanatici è una setta gente che lo ha l'idolata a prescinde però chi era un po' indeciso che ha visto quell'intervista in cui lui dice cose insulta la Harris gratuitamente non risponde sul merito nel merito divaga dice cose senza senso e Joe Rogan gli sbotta l'idea in faccia cioè si vede che trattiene le risate a fatica e neanche le trattiene questo potrebbe addirittura avergli fatto un danno quindi forse dovremmo ringraziarlo Joe Rogan che l'ha messo la berlina capito che l'abbia fatto volontariamente involontariamente non lo so già che tu ospiti Joe Rogan già era stato ospito da quegli altri scemi The Flagrant 2 Andrew Schulz Akash non mi ricordo il nome indiano ragazzi scusate però già lì dico ma perché evitate Trump? perché? cioè perché dagli altra visibilità? però probabilmente hanno ragione loro perché lo lo umanizzano ma non in senso buono in senso negativo lo fanno apparire in tutta la sua coionaggine guarda è uno come noi con i capelli di ambicile solo che è vecchio rincogionito spara cazzate questo non è Obama non è uno che può fare lo statista che è tagliato per fare il presidente degli Stati Uniti è un matto e forse in questi podcast questa cosa emerge meglio che in tv oddio pure quando ha fatto il confronto con la Harris è emerso molto bene ma parlando sempre dei comici la cosa che mi ha veramente disgustato questa veramente mi ha disgustato è Tony Inchcliffe che voi sapete chi è il comico faccia ragazzo voce di merda che è famoso per il format Kill Tony Kill Tony è un format americano purtroppo copiato anche in Italia in cui c'è lui e altri amichetti suoi comici che fanno una specie di talent per comici emergenti che hanno due minuti per farli ride no? se gli va bene diciamo la loro carriera potrebbe svoltare se gli va male vengono bullizzati vengono umiliati ci fai schifo non fai ride ecco una cosa che a me mi fa schifo non mi piace proprio quel format della forma del bullismo una specie di corrida anche perché in due minuti che cazzo vuoi dimostrare però vabbè poi l'hanno fatto anche in Italia aspetta premetto che questi comici sono comunque della della Rogan Sphere come si dice del giro del Joe Rogan no? tutti comici che comunque idolatrano Joe Rogan in Italia pure è stato copiato a un certo punto da da Frank Matano e ha fatto un nomerò come si chiamava un format uguale identico e e non solo lui vabbè però lui l'ha fatto in modo veramente becero e lui bullizzava proprio la gente andavano lì ha fatto perché se la gente va ovunque per cercare un po' di visibilità andavano lì e lui li piava per culo body shaming ah se è ciccione ah tu già fa ride già fa il comico già se è ciccione già fa ride così body shaming è stato massacrato dalla stampa e quel formato si è chiuso lì ha fatto due registrazioni che moriranno là non penso saranno più pubblicate e sono contento perché veramente la mia stima di Frank Matano è addirittura inferiore a quella per Tony Hinchcliffe però non lo so perché Tony Hinchcliffe mi stava già sul cazzo non mi faceva ride c'è questa faccia da stronzo bulletto proprio una faccia da matto no da bambino cattivo proprio poi si vede che è un narcisista proprio bullo bullo ha creato un format da bulli e non solo ma è andato a esibirsi a rally insomma al raduno dei trampiani al Madison Square Garden credo fosse lì capito e ha fatto una specie di roast no una serie di battute razziste ha detto c'è un'isola nell'oceano che è un'isola demonnezza è Porto Rico c'è ha fatto delle battute di tra virgolette black humor no cattive brutte offensive ma non è che le ha fatte in un roast in un club no davanti a un pubblico che si indigna per fare il gagliardo nel suo format no le ha fatte al comizio di Trump capito una cosa vergognosa io quando ho visto lui dico ma veramente a questi livelli cioè io pensavo che era un coglione ma non così ora capisco perché lo odiavo cioè questo è proprio un fascista che lui è andato lì a fare battute razziste davanti a un pubblico razzista capito è quella tu lì fai propaganda non è che dici faccio no no siete voi due le capite le battute vanno contestualizzate il pubblico no no tu hai sbagliato contesto tu sei andato là nel contesto dei dei repubblicani razzisti e hai fatto battute razziste compiacendo quel pubblico là è quella la cosa vergognosa che alcuni non capiscono e tu hai fatto da da altoparlanti a Trump ma lui la pensa veramente in quel modo non penso che ci sia andato per soldi lui se no non ci vai cioè di qua c'hanno Sprinstein c'hanno tanti personaggi tu vai da Trump t'hanno pagato non t'hanno pagato hai fatto una cosa ignobile secondo me e poi se lo criticato per queste battute razziste e becere che faceva poi diceva che gli artisti che si schierano con Trump con Kamala Harris sono una specie di sembra un party dei pdd facendo sempre finta che Trump non fosse stato amico dei pdd Trump era amico dei didd e amico dei Epstein quindi è l'ultimo che può parlare di questi festini perché lui è molestatore processato per stupro e loro vanno là a fare queste battute ma tu un conto che da comico fai questo tipo di battute è pure lecito in un contesto dei comici magari le fai in New York dove la gente è progressista allora lì le sfidi ma se tu vai al rally di Trump di Trump e fai queste battute non è più comicità è odio punto è hate speech e lui quello ha fatto quindi veramente Tony Hitchcliffe già mi sembrava un coglione dopo sta cosa spero che la sua carriera finisca ma purtroppo era già finita perché lui l'avevano già cancellato non so da quale programma format sempre queste battute però poi si era ricostruito sta carriera sul web su youtube grazie a sto format il Tony ma io spero che gli levino pure quello perché è indecente battute razziste davanti ai razzisti può essere una provocazione può essere una performance può essere una sfida battute razziste davanti ai razzisti è razzismo e anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo abbraccio con Fulvio Venanzini podcast polemico e satirico ma soprattutto polemico seguitemi su spotify recensitemi seguitemi anche su youtube su instagram ci sentiamo martedì prossimo puntuali non troppo grazie ciao